buongiorno a tutti oggi è il 4 giugno 2021 e sono le ore 10 e un quarto procedo all'appello chiedo ai consiglieri presenti di prestare il consenso alla registrazione presidente evola vicepresidente mineo consigliere forello consigliere chinici buongiorno sono presente e consento la registrazione grazie consigliere sala consigliere arrini consigliere ferrandelli consigliere chinici non si è raggiunto il numero legale quindi la seduta è deserta ok va bene buona giornata grazie altrettanto